eccoci qua siamo io io cioè diego è il leggiadro che si scrive tutto attaccato leggiadro oggi vi faremo vedere un po di prodotti che potrete ordinare buona visione e mi raccomando ordinati eccoci qua con questa bellissima riproduzione della bar con gli occhi qua perché arriva dal pianeta con gli occhi qua è un bellissimo casco che simula la mia pelata lo potete comprare logicamente riceverete anche un buono sconto per comprare altri prodotti o per comprarvi una skin di forte quando uscirà la skin pelata delle bellissime forbici di gamberetti sbucciati per ripulire gamberetti e cazzi un portachiavi di questo orsacchiotto col piripillo di fuori si chiama willy willy bellone dei denti adesivi finti che se hai il buco che ti manca il dente lo metti lì lo appoggi momentaneamente giusto era così vero e sostituisce i denti mancanti in pochi minuti senza macchiarsi perché di solito invece quando ti sostituisci i denti mancanti ti macchi andiamo avanti con questa buonissima pizza che abbiamo l'abbiamo provata io e leggiador stasera è buonissima è pizza pizza con pezzettini di salame e anche dei biscotti al cioccolato sopra buonissima cioè infatti doggo adesso mangia solo questa il set manicure se dovete ritoccarvi un attimo lunghiette specialmente le signorine possono usare questo manicure set molto delicato carta da parati sfoglia il catalogo e lasciati spirare cioè mettiti a leggere il catalogo e muori queste bellissime scarpe io rido per la sua risata il lego mine mine raft mine raft ma in l'epin e lego tarocco il lego cinese orario del nostro nuovo negozio dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 20 invece il sabato e la domenica e dalle 9 alle 20 i giorni della settimana chiaro chiarissimo un pezzo a questo qua è un gioco per il cagnolino no un pezzo e scopatela tutta la notte la pannocchia da sgranocchiare per il cane un pezzo e scopatela tutta la notte qua è una statuetta per il presepe dove vedete che la pecorella sta in una posizione un po ambigua soprattutto si vede una specie di gonfione nei pantaloni proprio chiaro che c'è qualcosa di dritto prova saltiamo ops fa niente andiamo avanti dov'è che era arrivato ci siamo le gillelle le famose la mette da barba ok e il uomo l'uomo pannocchia vedete una nuova bellissima action figure come vedete bellico la gamba di legno da pirata cioè l'uomo l'uomo pannocchia dice è permanente la magia completa l'incantesimo e soprattutto la signora lì che dice un sogno incredibile c'è un mio dice mamma 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 cos'è quello lì un aereo no è cornoman cornman cioè tutti lo vogliono esatto qua dice prego satanizzare le tue mani qui in diavola le tue mani vai bello pt dopo che non sappiamo cosa ha combinato per conciarsi così avrà bevuto tantissimo la sera l'occhi anche questo c'ha un occhio che è andato un po per il quello è quello vero questo qua c'ha un po l'occhio per i cacchi suoi ma vabbè queste margine è chiaro che margine simpson proprio una riproduzione perfetta ma questa è la signora di gatti che ha sei gatti ma la faccia non ce l'ha tanto sana invece c'è anche penso non sembra un gatto ma nella tasca si ma anche quello nei cappelli non sembra neanche un gatto comunque guardate gli occhi e la bocca così ha combinato qualcosa pure questa forse ne ha uno ma ne vede sei perché questi tipo pistacchi robe così della marca alcazzi quindi se volete di alcazzi delle noccioline di qualità alcazzi infatti guarda quella lì che è un po questo schiaccianoci che la tipa schiaccia le noci con qua il bar che c'è sotto il nostro negozio dove vendono i succhi di fretta vedete due euro un succhio di fretta c'è proprio veloce qua è la bibbia 2 dove gesù su un unicorno con demitra spara dei raggi laser dagli occhi delle merendine senza glutei perché sappiamo le merendine hanno glutei esatto questa è la ragazza vivace la famosissima ragazza vivacissima che non sappiamo cosa combina ma una ragazza vivace si vede che si sa divertire insomma questa va al salone di barbie in quarantena home salone di bellezza casalingo mi chiamava la barbie quindi quando non si trucca è così o che schifo vediamo bellissima bellissima e poi abbiamo questo bambolotto e la descrizione dice real real life express cioè un'espressione da vita reale della vita reale per questo episodio tutti scommetto che avete il riso di più per le risate del leggiadro che per le minchiate che dico io ma va bene bellissima me le devo mettere come suoneria la mattina le risate del leggiadro poi vi passerò alle mp3 così vi sveglierete tutti contenti ciao a tutti da diego e dal leggiata adio per questo video è tutto ragazzi iscrivetevi al canale e buon divertimento ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti